Quest'anno ho presieduto i lavori della prima commissione bilancio e di tutta la sessione di bilancio, l'ho fatto con senso di responsabilità e di lealtà nei confronti degli abruzzesi. Questo però non può esimermi dal commentare il bilancio e soprattutto il parere dei revisori dei conti che finalmente è arrivato e che ci ha mostrato quello che in realtà avevamo già anticipato, cioè che non c'è certezza dei conti nel bilancio di Regione Abruzzo in particolare, non vetraccia del piano di rientro sul deficit e parliamo di un disavanzo di circa 360 milioni di euro per cui la constatazione che la Giunta Marsiglio navighi a vista, non abbia alcuna programmazione e purtroppo l'Abruzzo sia in una totale incertezza.